e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo di super mario maker 2 perché in realtà io questo l'ho fatto in live su twitch ma non l'ho mai portato sul canale quindi sono curioso di farmi un paio di partitine il gioco diciamo che è molto carino per chi ha la passione del creare livelli ma anche per chi ama super mario perché può giocare tutti i livelli io voglio giocare però perché mi fai giocare per cortesia per chi ama giocare tanti livelli diversi fatti da persone che spesso sono anche molto molto geniali se c'è qualcuno di voi che crea livelli mi piacerebbe se nei commenti mi desse i codici relativi per giocarli fondamentalmente premia lr gioca modalità storia a livelli dal mondo voglio fare i livelli dal mondo la modalità storia l'ho portata avanti un po ricevuto delle notifiche vuoi leggere vuole leggere io questo gioco non lo apro da un sacco mancia rinfestia sti cazzi affrontato 10 livelli la ricompensa adesso disponibile la versione bla bla allora vediamo classifiche autori di livelli giocatori avversari dai un'occhiata trovare anche livelli speciali fly by guy è primo in classifica fa dei bellissimi livelli immagino questa lista vedi questa lista di livelli superati prima di tutti perché non provi a rivivere le emozioni delle tue vittorie passate da qui puoi anche vedere il numero di livelli superati prima di tutti che vuol dire livelli pubblicati the floating island io spero che non siano difficilissimi perché io non sono capace gioca insieme gioca perché insieme con chi tentativi 80 vinti su 418 mi sa che è un po difficilotto eh questo fly by guy mi sa che fa livelli di quelli tosti io non mi ricordo manco i tasti calcolate ok facciamoci la partita in super mario dai ci sta ti prego fa che non siano difficilissimi perché lì ci sono dei come apro quella cosa vabbè boh ok sono i tartosso un funghetto però c'era qualcosa all'inizio che mi che sono sti maiali perché ci sono i maiali oh cristo c'è un boss così ah ma io lì ci arrivo lì mi sa ci arrivo da sta cosa oh strunz che brutta sta porticina eccoli 3 one up ottimo nel frattempo cani oh basta sto sconfitto a te basta no nel frattempo cani in sottofondo io spero che voi non li sentiate ma come faccio a far fuori questi non posso uuuu uuuu beccato oh 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 attenzione qua è pieno di stronzi e vai e qua siamo morti in un botto di persone chissà perché sono morti tutti lì eh vabbè il cazzo però via 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 di tutto tutto questo 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 pipipipipipipipipipipi uuuu dai carino carino come livello non così complicato non capisco perché sta in primo in classifica perché è un livello abbastanza semplice anche da creare immagino Ma, vabbè Non mi è piaciuto moltissimo Andiamo da Watch SMM Che è una Donnina Livelli pubblicati The Watch Wahoo 1-1 but small The Watch Baby Kaizu Ok, andiamo su The Watch 11 di 300, percentuali di successo 3,66 Ripeto, se siete creatori di livelli Mettete qualche codice qui sotto Magari facciamo una puntata apposta Ok, qui è tutto ghiaccio Bene Iniziamo benissimo Allora, io non ti insulto Perché sei una signorina perlomeno dal tuo avatar Poi non lo so se effettivamente sei una signorina Alzo un po' l'audio Perché mi sembra un po' basso No, io non ce la farò mai A fare un livello del genere Questo è il motivo per cui non gioco A Super Mario Maker 2 No, perché? Perché la vita è così brutta? Addio, addio, addio Sorada Ah, io faccio così però Sono più furbo di te Mi sa che non sono molto furbo Eh, wahoo mamma da no, wahoo Grazie, è difficilissimo Ok Esci Addio Va fangulo Watch SMM Dai, questo è giapponese Questa è cinese No, è giapponese Livelli pubblicati Eh, quanti cuori Quanti per cento Questa è facile Dai, 93% Questa è facile Semplice Easy 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 Ok Che è sta roba E come si fa? Geniale Ok Ok, qui c'è un Coso Qua mi schiaccia No Dove cazzo sono andato? Ma che cazzo è successo? Io non so che cosa è successo Però mi piace un casino Sto fatto che si abbassa il Il fregno Ok Ma qua ci posso andare? No Non ho capito Come ho fatto a A sbloccare quella cosa Non posso andare in giù? No Qua sì però No, qua non ci posso andare Ah, schiaccio le bombe No Vabbè Ma è una figata Cazzo Sono andato a finire su on Ok Adesso su off Di nuovo Quindi posso andarci Perché non va giù? Sono sceso di là Io pensavo di dove Piano quei cosi Calcolo Ok Lì c'è di nuovo Quel concetto lì Io non so bene le meccaniche Devo essere sincero Di Proprio di Super Mario in generale Ok Faccio la stessa cosa di prima Mi schiaccia Pio qualcosa qua E riesco di qua Ok Adesso posso rompere i blocchi Con delle mani di gatto Ok Tutti li voglio rotti Tutti Ok C'ha delle meccaniche Molto interessanti Sto Sto livello Ok Forse devo rompere i I blocchi Ah i blocchi lì No vabbè Che figata Che figata Che figata Sono molto ingegnosi Sti Sti tizi E se questo è giapponese Cioè voglio di Ok Cerchiamo di capire qua Come si fa Cioè adesso Ho la testa Con un Coso Quindi posso rompere Cosa Questo Questo Anche questi La zampa del gatto Ok Praticamente Questo ha messo Tutti Che boss Ma la stellina Che deve fare Ok La stellina di dentro Mi ha dato la chiave Dai Andiamo di qua Ormai ho capito Geniale Tutti geniale Ok Stellina Vai Figata Sto livello Figata Questo mi è piaciuto Molto 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 Bello Ti do anche Un bello Ragazzi Ripeto Se avete qualche livello Interessante Da farci Da far giocare Sul Su questo canale Fatemelo sapere Il gioco è molto interessante Mario Maker è uno di quei giochi Anche da avere Per switch Soprattutto se siete Davanti di super mario Perché fondamentalmente È un super mario infinito Con vari stili Super mario più moderno Meno moderno E noi ci vediamo Al prossimo video Come sempre Se mettete un like Condividetevi Iscrivetevi al canale Aiutate il canale stesso A crescere Ciao